Il tema è incentrato sull'inquinamento da parte della plastica sul mare Pesce con una bottiglia dello svelto, il detersivo Lo scolo martello intrappolato in una bottiglia di tè Oltre alla sezione di pittura naturalmente qui c'è anche la sezione di scultura, di architettura Vedremo anche delle sculture in plastica che riprendono appunto dei pesci fatti con una bottiglia di plastica per cui danno l'idea proprio di questo pesce che sta mutando, sta diventando sempre più plastica che è meno carne Quest'idea ci è stata data specificamente dal vincitore del premio Avizzini del scorso anno Con la partecipazione del Siso Project ovvero un progetto che consentirà di realizzare un museo del mare nel Castello di Milazzo noi ci stiamo rendendo parte, stiamo credendo fortemente in questa iniziativa e per questo stiamo dando modo ai ragazzi di esprimere le loro qualità artistiche specialmente legate al tema ambientale Vedremo l'esibizione di numerosissimi artisti numerosissimi talenti messinessi che fanno parte dell'Ateneo e insomma ci saranno tantissime novità dal punto di vista artistico e culturale ci sarà la vera e propria premiazione del concorso fotografico Michelangelo Vizzini Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti